10 settembre 2019, sono passati 19 anni dalla tragedia del Leggiare, ha soverato 13 morti, 13 vittime del gruppo Unitalsi di Catanzaro. Ne parliamo in questo giorno, per tale triste anniversario con il Presidente dell'Unitalsi di Catanzaro, Franco Greco, con Franco Cassale e con Mimmo Corrone, sempre del gruppo Unitalsi. Presidente, dicevo, chiaramente un giorno triste, tanto dolore che è rimasto e poi anche tanta rabbia per quello che magari si poteva fare per evitare tale tragedia. Sì, sicuramente si poteva stare più attenti, ma è stata una fatalità, una tragedia che sicuramente nessuno voleva, soprattutto l'associazione di Catanzaro che aveva organizzato quel campo lì a Leggiare, che era fatto da tanti altri anni e non era mai successo niente. Purtroppo è andata così. È triste, ma non lo stesso tempo noi sappiamo da cattolici che sono con noi, sono sempre con noi e non ci hanno mai abbandonato. Sono vicino a noi, dietro l'angolo, ma non sono lontano da noi. Per cui noi ci sentiamo sempre vicino a loro, li ricordiamo sempre, anche durante l'anno, non solo il 10 settembre. È triste per i parenti soprattutto, che non hanno vicino fisicamente i loro congiunti. Però sappiamo da veri cattolici che sono con il Signore, per cui stanno meglio di noi. Sono passati ben 19 anni, Presidente, e in questi anni chiaramente la cosa è stata anche un po' metabolizzata, eppure la rabbia e il dolore, come dicevamo, chiaramente non possono venire meno. Assolutamente, per quanto riguarda l'Unitalsi e tutti gli unitalsiani nazionali, non è stata mai mitigata né il dolore né il ricordo, assolutamente no. Perché noi continuiamo ad esempio a fare sempre i campi estivi per i nostri amici speciali, noi li chiamiamo così amici speciali, e loro sono morti per gli amici speciali, insieme ad alcuni disabili, amici come li chiamavano, amici speciali, che non hanno mollato fino alla fine, sono stati vicini a loro rimettendoci la vita. Ora ne parleremo anche del campo estivo, facciamo respirare il Presidente, chiaramente un attimo di commozione, Mimmo Corrone. Come si vive questa giornata? È triste, è triste nel loro ricordo, soprattutto pensando agli amici che erano fratelli per noi, in tutti i sensi, per cui condividevamo e passavamo molto tempo insieme a loro, è molto triste. Franco, il tuo ricordo di quel giorno, non so se tu fossi da quelle parti? Io non c'ero, però come dicevamo il dolore e la rabbia c'è sempre, perché una giornata di grande diventimento poi si è trasformata in una tragedia, comunque sono sempre nei nostri cuori. Presidente, di fatto quella notte, lei non era ancora Presidente dell'Unità, questo è bene ribadirlo, non so se fosse da quelle parti. Conosco la storia. Conosce la storia, insomma, ricordiamo, era la notte del 10 settembre quando un alluvione si abbatté sulla costa Ionica e sul Soverato, l'esondazione poi del torrente Beltrame causò la tragedia. Sì, causò la tragedia e questa barriera d'acqua, questo muro d'acqua entrò in maniera violenta, che più che acqua era acqua e fango, che era ancora peggio, entrò all'interno del camping ed era all'altezza di, abbiamo trovato tracce, 3-4 metri d'altezza, quanto un bungalow era all'altezza dell'acqua e fango, non dando scampo a chi non è riuscito ad uscire dal bungalow, a uscire per le vie. E nello secondo, ripeto, questo io ci tengo a dirlo, la rabbia è calata, il dolore assolutamente no, però il ricordo di questi eroi, questi eroi che hanno ottenuto fede e dura il ruolo dell'unità alziano. Io ho vissuto l'attimo in cui, diciamo, li hanno trovati e ho cercato qualcuno di riconoscerlo nell'ospedale di Soverato, qualcosa di tragico, troppo tragico per ricordare. Questo è meglio spostare, questi tipi di ricordi. Come capite, chiaramente amici di RTC, dopo 19 anni, chiaramente la commozione è ancora tanta, mista, dolore e rabbia, come dicevamo. Questa sera, 10 settembre, voi vi ritroverete a Soverato, per ricordare soprattutto. Ricordare e fare una preghiera per i nostri amici barillieri, dame e disabili. Faremo una preghiera, l'associazione si troverà quasi tutta lì, per ricordare, ripeto, questi nostri fratelli unitaziani. Sì, l'amministrazione comunale in questi quattro anni, ogni anno ha voluto sempre di più valorizzare quest'area, in memoria, come diceva giustamente Donald Folso, non in ricordo, affinché la memoria sia eterna di ciò che è accaduto purtroppo 19 anni fa, quel maledetto 10 settembre del 2000. Oggi sono particolarmente amareggiato perché proprio in questi giorni stiamo facendo la pulizia dei fossi per la raccolta delle acque e purtroppo gli operai hanno mandato ieri a me delle foto dalle quali si evince che alcune ditte edili hanno riversato del materiale all'interno di questi fossi andando ad ostruirli. Quindi l'ignoranza e la stupidità dell'uomo non ha mai fine e ricordi e memorie come queste dovrebbero essere da monito affinché viviamo in una società più civile e più attenta. Ciò non sta avvenendo e allora ho chiesto un maggiore sforzo alle forze dell'ordine affinché venga fatta una stretta sulle ditte edili, soprattutto quando ci sono dei camion che trasportano del materiale, magari ogni tanto cercare di seguirli e capire dove vanno a posizionarlo, se lo portano in discarica o meno perché non è più accettabile nel 2019 avere ancora dei segni di inciviltà che probabilmente sono quelli che hanno causato questa strage ben 19 anni fa. Franco, per concludere con una nota positiva, una nota allegra, il campo estivo Unitalsi, appena concluso, com'è andato? Bellissimo, veramente, veramente molto bello, l'abbiamo condiviso quest'anno con nuovi amici i quali sono rimasti veramente soddisfatti. Mimmo, anche una sua parola? Io lo definisco fantastico, proprio fantastico, un campo molto folto, no? Assolutamente sì, eravamo circa 90-95 persone, il giovedì abbiamo raggiunto le 120 unità, qualcosa di veramente meraviglioso, meraviglioso. Presidente, a lei la parola per concludere questa nostra intervista di RTC e un messaggio finale, chiaramente il prossimo anno, il 10 settembre del prossimo anno, sarà il ventesimo anniversario della tragedia. Posso anticipare che lo faremo a Catanzaro, al Parco della Biodiversità, che ci ha ospitato un'altra volta, il Presidente della Provincia dall'epoca e quello di oggi hanno dato massima disponibilità, per cui ritengo che dovremmo fare un ricordo vero, sentito lo sarà sempre, ma soprattutto accompagnato dalla Chiesa, dal nostro Vescovo, perché non dimentichiamo che l'Unital sia un'associazione ecclesiale. Noi siamo dentro la Chiesa e quindi siamo vicino alla Chiesa e i nostri amici speciali hanno sempre una benedizione speciale. Bene, grazie a tutto da Catanzaro, nella giornata del ricordo per le vittime della tragedia dell'Eggiare a distanza di 19 anni. Grazie a tutti.